Musica Salve a lei tu che da sviluppatore hai fatto nascere parecchie vetture, abbiamo visto qualche Hyundai partire poco fa Qual è il motivo della tua presenza e la tua presenza la sappiamo è anche legata ad alcune vetture esposte dietro alle nostre spalle Ma c'è anche qualche interesse di natura sportiva questa sera? No, mi ha invitato lui per andare a una festa dopo Assolutamente, assolutamente con il sorriso queste parole Anche se ricordiamo che poi ci sarà davvero la festa al termine degli arrivi Però che effetto fa essere qui in veste diciamo così di spettatore nell'ammirare, nel guardare tutte queste vetture che partono? Ormai lo spazio nel motosport, quindi devo essere onesto Sono qua a vedere la partenza ma ho capito che ho fatto bene a fermarmi E allora salutiamo, buon rally anche Allora io mi sento Stefano e voglio ringraziare Allora io mi sento Stefano No 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.